dottore vero che in amore vince chi fugge no non sono d'accordo con con questa affermazione penso che possa essere corretta nell'innamoramento vince chi fugge potenzialmente è una strategia forse questa è una risposta più giusta nel senso che amore ed innamoramento sono due cose completamente diverse ho fatto già qualche riflessione al riguardo la trovate sui vari vari canali social e quando impropriamente ci si riferisce all'amore e alla fuga spesso questo amore questa fuga si riferiscono alla fase iniziale della relazione quindi più all'innamoramento che all'amore tant'è che fuga e amore sono abbastanza in antitesi nel senso che come come ho già detto l'amore è basato sulla costruzione sulla progettualità sulla condivisione di un ideale sulla posizione sull'assunzione di una responsabilità che la persona e le persone appunto si danno confermono reciprocamente nel dire anche quando le cose non andranno male non getterò la spugna ma mi impegnerò e farò tutto il possibile per provare a risolvere la situazione cioè l'amore molto più basato sull'idea di lungo termine ok nel balletto iniziale invece in cui le persone iniziano a conoscersi trovano i loro equilibri si in un qualche modo combinano l'una con l'altra quindi nel balletto dell'innamoramento allora la fuga può essere una strategia la fuga diventa appunto un meccanismo un modo per in un qualche caso far svelare l'altro ok cioè riuscire a far emergere il desiderio il sentimento l'impegno che l'altro potenzialmente può portare all'interno della relazione e quindi il sottrarsi il fuggire l'allontanarsi il farsi inseguire diventa in un qualche modo appunto strategico nel riuscire ad ottenere delle informazioni su quanto l'altro sta provando questo può essere legato sia ad un'insicurezza propria cioè al bisogno di ottenere questo tipo di rassicurazione prima di potersi buttare all'interno di una relazione sia quando non si ha come dire una contezza chiaro quindi in testa in che cosa l'altro prova perché magari viene percepito come contraddittorio talvolta ambivalente talvolta affubulatore allora la fuga diventa appunto un modo per permettere all'altro di svelarsi non è necessariamente una strategia che deve essere applicata anzi io penso che all'interno delle relazioni sentimentali soprattutto quando è il sentimento poi a governare e quindi l'emozione a governare il rapporto applicare delle strategie non è mai una buona strategia scusate il gioco di parole ma ma questa è la realtà nel senso che uno dovrebbe mostrarsi per quello che è e vedere se l'altro effettivamente riesce con lui a combinarsi o ci sono i presupposti per cui questa cosa possa possa avvenire insomma dall'altro lato capisco anche che molte persone magari per storie precedenti scottature precedenti eccetera magari situazioni di vita particolarmente complicati necessitano una conferma ulteriore l'allontanarsi sottrarsi in questo caso diventa un modo quasi per richiederla in maniera indiretta attenzione ovviamente che anche come dire la contropartita cioè nel senso che dipende anche se l'altro poi è disposto se a sua volta l'altro mette in atto la stessa strategia il corteggiamento e l'innamoramento rischiano di essere estremamente diluiti labili e talvolta non generare mai l'innesco necessario poi per avere effettivamente una storia d'amore appagante c'è da chiedersi sempre il perché lo si fa è legato a delle proprie insicurezze o è legato alla contradditorietà ad esempio della comunicazione dell'altro già a partire dandosi questo tipo di risposta può far sì che i nostri comportamenti nostri atteggiamenti cambino necessariamente non mettendo in atto appunto la fuga tanto ambita